La Eulocometa è stata invitata al Giro d'Italia, cosa ti aspetti da questa corsa a tappe e poi tra l'altro ne avremo un paio che accalcano i tuoi terreni d'allenamento? Sì, abbiamo ricevuto l'invito per il Giro d'Italia, onestamente era nell'aria e ce lo aspettavamo e quindi sono molto contento di questa opportunità perché comunque la squadra ha dimostrato di avere un progetto alle spalle veramente serio. Due tappe in Romagna, so solo questo perché io come mia consuetudine non guardo i Garivaldi, lo guardo subito quando sono lì alla partenza del Giro. Una tappa che arriva a Bagno di Romagna è una cattolica che sicuramente l'ho già segnata in rosso. Manuel Belletti è un po' il veterano del gruppo in corsa, il tuo obiettivo di stagione? Sì, diciamo che sia io che Gavazzi siamo un po' le chiocce del gruppo e ci hanno preso oltre che per fare risultati anche per trasmettere qualcosa ai giovani corridori della squadra. L'obiettivo è appunto ben figurare e raccogliere più risultati possibili, sarebbe bello partire bene alla Tireno Adriatico e provare a rivincere una tappa al Giro d'Italia.